La rigenerazione urbana La rigenerazione urbana è un ruolo fondamentale nella sostenibilità e il verde. Come del resto fondamentale è il ruolo del verde e della vegetazione nell'ambito del metabolismo urbano, in quanto attraverso lo studio di una serie di meccanismi si riesce a valutare quelle che sono le matrici ambientali e di conseguenza si riesce a cogliere quello che è l'impronta ecologica e il bilancio ambientale di una città. E in questo ambito il verde e la vegetazione svolge un ruolo fondamentale e un'importanza strategica. Sappiamo tutti che la vegetazione in ambito urbano vuole dire produzione di ossigeno, vuole dire assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica, vuol dire fissazione delle polveri, assorbimento dei gas nocivi, traspirazione dell'acqua e quindi raffrescamento del microclima soprattutto nel periodo estivo. Sono tutti dati che migliorano la qualità della vita e degli ambienti in cui viviamo. Come del resto la presenza del verde in città vuol dire anche avere delle superfici permeabili, il che significa che la pioggia che cade non va immediatamente come avviene nelle superfici impermeabilizzate in fogna e di conseguenza va a incrementare quello che è la capacità della rete fognare, e quindi creando dei problemi ma precipitando, andando nel suolo, quindi nella permeabilità del suolo, questo ritorna in ciclo e quindi non va a gravare quello che è la capacità idraulica di un sistema. Grazie a tanti studi, soprattutto dell'università, dei centri studi di ricerca, del CNR, ci forniscono dei dati tecnici che ci consentono di pianificare, di progettare in modo sempre più oculato, mettendo come obiettivo, avendo come obiettivo quello che è il miglioramento dell'ambiente in ambito urbano. Solo per concludere c'è stato uno studio in America, commissionato dal Servizio Forestale degli Stati Uniti, che attraverso un'analisi di costi e benefici ha evidenziato come la presenza del verde in città sia non solo un elemento strategico e che apporta benefici alla città, ma ha fatto sì che le città che hanno puntato sul verde sono quelle che sono risultate le più resilienti e quelle che hanno maggiori capacità di adattamento relativamente ai cambiamenti climatici. Quindi il verde e la vegetazione hanno un ruolo fondamentale all'interno della città ed devono diventare la parte strutturante e indispensabile per il miglioramento delle condizioni di vita, degli stili di vita e della qualità della vita all'interno delle città.